signori buongiorno a che ci troviamo 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 un po' e che verme di zimini ce l'aranno di buona lisa speriamo aspetta aspetta spero dall'altro lato stavo guardando o o o o Volta! Volta! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non lo so, vi posso dire che le testate le ho sentite, vabbè la piegata l'avete vista, pazienza! Continuiamo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Signori, che dire, ci ha fregato stamattina, erano le 10, sono praticamente le 15, dopo quella bella stirata non è successo più nulla, ma proprio nulla, nemmeno le murene c'erano stamattina, ho risparmiato il verme di rimini, è rimasto intero, purtroppo se ero vicino alla canna la tiravo fuori, se aspettavo la tiravo fuori, boh non lo so, ogni pescata ha la sua storia, è inutile farsi le seghe mentali, è andata così, è andata così e c'è poco da dire, poco da fare, l'importante è divertirsi sempre, prima o poi la ribecchiamo dai, stavolta è andata male, pazienza, un abbraccio a tutti, grazie sempre e alla prossima dai, ciao ragazzi!